E' troppo presto, non ci siamo ancora ripresi. Ridò non doveva mandare nulla. Sì. E' troppo presto. Sì. E' troppo presto. 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 Grazie. 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 Ho saputo che è stata intercettata una battuglia di soldati americani, ci sono stati pochi superstiti americani, come al solito, arrivate tardi dalla festa, qui abbiamo quasi finito, ho già rimosso dal riso da tutto un personale non essenziale. Le navi sono cariche e pronte a salvare per la direttiva 16. Grazie a tutti! 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 che ci ved αυτό cosa qua! Strutt- Sta scappando! Non senza di noi! Muovi aggi... Non sta dicendo sul serio! Lo dicevo che eravamo fregati!!! Drosten,llo sapeva!!! E tanti saluti alla Cavalegna. Già, siamo passati dalla padella alla braccia. Vuole portare il suo esercito in Inghilterra. No, qualcosa non va. Strauba altri piani. Scordiamoci l'Inghilterra. 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 Scordiamoci l'Inghilterra.